Ciao, come va? Il mio nome è Sara Calloni e oggi voglio parlarti di come siamo convinti che possiamo ottenere successo anche senza sforzo. Beh, purtroppo ti voglio dire che questo non è possibile. Per avere successo bisogna lavorare e bisogna sforzarci per ottenere il successo. Perché abbiamo la convinzione di poter ottenere successo anche senza nessuno sforzo? Beh, questa convinzione ce la dà il mondo che ci circonda, a partire dai film. In un film succede che il protagonista in più o meno un'ora e mezzo riesce a raggiungere enormi risultati, del tipo inizia che è povero, non ha niente e in un'ora e mezzo riesce ad avere l'intuizione giusta o una grande fortuna e ottiene i soldi che gli servono. Oppure su una relazione, è innamorato di quella persona ma questa non solo fila, però in un'ora e mezzo riescono a vivere felici e contenti e si sposano. Il film Hollywood in generale ci abitua a queste storie e quindi crediamo che siano vere. E non solo, anche la tecnologia oggi ci dà questa impressione. Prendete ad esempio un microonde, prima per cuocere o riscaldare un alimento ci voleva del tempo, ora invece metti in un microonde e in pochi minuti hai pronto l'alimento e è bello caldo. Quindi dobbiamo imparare che purtroppo nella realtà per avere successo bisogna che passi del tempo e bisogna sforzarci, bisogna lottare e bisogna lavorare per ottenere questo successo. Quindi spero che questo video ti aiuti a lavorare per ottenere il tuo successo e se ti piace un bel mi piace per me e condividilo, condividilo con i tuoi amici. Se è ancora, ti chiedo se ancora non l'hai fatto, di iscriverti nel mio canale YouTube. Come sempre se stai vedendo questo video in YouTube, qui nell'angolino vedrai la mia faccina dove puoi premere per poterti iscrivere, oppure se lo stai guardando in Facebook, sotto nei commenti ti lascio il link. Quindi agisci e ci vediamo domani. Ciao!